Ho incrociato delle opportunità che sono quelle dei materiali convenzionali dirotati verso aspetti nuovi. Abbiamo presentato un pavimento che è fatto di multistratto, che è un materiale a strati, come giustamente lo nome e dice, che normalmente si usa sotto per proteggere il pavimento perché non si deformi. Io l'ho girato in piedi, che sembra un vellutino, ed è resistenzissimo perché il legno è di testa, dunque è diventato un pavimento ad alta percorrenza, anche con un muletto molto aggressivo, un po' come il cemento. Questo ha un aspetto notevole e molto diverso. Altrettanto, voglio dire, un approccio simile l'ho fatto con una cucina dove nessuno si glorifica a fare oggi una cucina fatta di laminato, che è un materiale, tra virgolette, povero, però molto interessante perché è qualitativamente perfetto per cucinare, perché non si macchia, non resiste al calore, eccetera, eccetera. Io ho fatto una cucina povera, però arricchita di dimensioni che normalmente sono solo nel segmento lusso, anche molto grande, da 90 a 100, 120, e con dei materiali pregiati sopra. Un po' una ragazza che va in giro con delle scappe da tennis e una bossa a messo, insomma. Ho giocato molto sui colori e di solito si tende con dei bellissimi materiali a calmare i colori, in modo di non essere troppo forti. Lui avevo un materiale piuttosto blend, vergine, che non ha problemi di colori, e ho fatto dei blu, dei rossi, eccetera, e la cosa comunica molto, insomma. Ma il fatto di considerare un materiale come un materiale nuovo mi sembra un po' un cliché. Io preferisco indagare sul passato, anche perché ci sono delle terre cotte che, riutilizzate in un modo diverso, o su dei prodotti non usuali, diventano materiali innovativi. E' più il fatto di spostare le cose in un posto dove non erano presenti prima, che fa sì che identifichi un materiale come un materiale nuovo. La discussione che vi ho fatto prima, abbiamo camminato per decenni su un pezzo di legno, non sapendo, l'abbiamo girato e è diventato creativo. Io penso che sia più una forma mentis nel progetto, quello di definire che poi è un materiale innovativo. Le forme sono quelle che comunicano più facilmente, perché è facile farne una foto, essere pubblicati, eccetera. Però mi piace di più considerare il designer e il design come un mestiere dove si ascolta. Si ascolta il nostro cliente, il consumatore, e si cerca di dare delle risposte. Dunque il consiglio che potrei dare è saper ascoltare, saper decriptare, fare la spugna della cultura propria e poter restituire un risultato che serva alla domanda fatta. Mi interessa molto aiutare e partecipare alle nuove avventure. C'è stata una crisi economica molto forte in Europa, che ha dimezzato anche magari di più tutto il savoir-faire, che è bello nel mondo del mobile, della luce, l'italianità in generale. E poter aiutare le aziende che sono diventate piccole o che cercano mondi nuovi, perché sono state in crisi, è una cosa che mi interessa molto e cerco di farlo parecchio. Ovviamente il rischio di non successo diventa molto più elevato, però il rischio di fare delle cose che ieri non si facevano diventa anche molto più elevate, più importante, e quando si riesce è una bella soddisfazione. Grazie a tutti.